5 nuove case dell'acqua sul territorio di Torre del Greco, l'estensione della rete idrica in via Montedoro e della rete fognaria in via Lagno-Rivieccio. Sono le novità emerse dall'incontro tenutosi nei giorni scorsi tra Gori e Comune di Torre del Greco. Negli studi di TV City l'assessore ai servizi tecnologici Giuseppe Speranza illustra le attività e gli interventi che a breve verranno realizzati. Finalmente dopo alcuni anni siamo riusciti a mettere insieme ente comune e Gori per la definizione di alcune attività da tenersi sul territorio. In primis anticipo che avremo ulteriori casette dell'acqua per evitare il consumo indiscriminato di bottiglie di plastica che è notorio, creano non pochi problemi. Dove saranno posizionate queste case dell'acqua? Abbiamo utilizzato un criterio di dislocazione su tutto il territorio. In primis si pensava solo a quattro punti, poi in estremi si sono riusciti a strappare anche una guinda che sarebbe situata nella zona di Cappella Nuova, zona Belvedere, l'avremo a Leopardi, l'avremo alla Litorale, l'avremo in località Santa Teresa e l'avremo in località Scappi Bianchini, Montedoro, insomma in quella zona. Oltre alle casette dell'acqua un'altra attività molto interessante è che finalmente dopo tanti anni riusciremo a collegare l'ultimo tratto di via Montedoro all'acquedotto Gori. C'erano intere famiglie, circa una trentina di nuclei familiari che non erano serviti dall'acqua ad utilizzo pubblico e quindi anche questo aspetto sarà definito credo nel giro di alcuni mesi. Anzi in questa settimana si procederà già alla sottoscrizione per le richieste da parte dei cittadini in modo che la Gori avrà contezza di quanti utenti effettivamente avranno bisogno di essere approvvigionati. Invece per la zona dei Lagni? I Lagni è stata un'altra attività che vede la sua risoluzione. Tra i tanti alvei abbiamo Lagno Riviecio che non è servizio di fognatura, anche quello rientra in questo programma, in questo protocollo che siamo riusciti a definire con la Gori. Abbiamo altre situazioni che saranno poi definite e portate al termine nell'ottica di migliorare non solo l'ambiente esteriormente ma anche l'ambiente sotterraneo che è un ambiente che non tutti conoscono. L'omenica scorsa abbiamo assistito a un evento poco piacevole che è quello della rottura di una condotta dedita al sollevamento delle acque reflue dalla litorania che venivano poi convogliate nel depuratore di Santa Maria della Bruna. Purtroppo, causa delle condizioni atmosferiche degli ultimi giorni, c'è stata la rottura di una delle tre condotte che sono dedicate al sollevamento e al pompaggio di queste acque. Fortunatamente, grazie all'intervento dei tecnici della Cora, della stessa ditta di manutenzione RDR e dei nostri tecnici comunali, abbiamo visto la risoluzione in poche ore durante la notte e questa situazione è stata appianata. L'amministrazione di cui mi onoro di far parte attenda tutte le problematiche che affliggono il nostro territorio. Spesso non siamo presenti su tutte le cose che non siamo a conoscenza, però tutto ciò che ci viene comunicato noi interveniamo.